Benvenuti a un viaggio di scoperta sensoriale in cui esploreremo il potere e la bellezza della consapevolezza sensoriale adattiva. Nella frenesia della vita quotidiana spesso trascuriamo la ricchezza di esperienze che il nostro mondo ci offre attraverso i sensi. Oggi vi accompagneremo in un percorso che vi insegnerà come affinare i vostri sensi per percepire il mondo in modo più profondo ed utilizzare questa consapevolezza per migliorare la vostra vita. Viviamo in un mondo straordinario pieno di stimoli sensoriali ma raramente prendiamo il tempo per percepire appieno la bellezza che ci circonda. Lo scopo di questo video è ispirarvi a riscoprire il mondo attraverso i sensi e imparare a vivere in modo più attento ed appagante. Iniziamo questo viaggio nell'arte della consapevolezza sensoriale esplorando i suoi benefici e le tecniche per svilupparla. Ora è il momento di esplorare alcune tecniche pratiche per svilupparla. Queste tecniche vi aiuteranno a sintonizzarvi con i vostri sensi e a percepire il mondo in modo più intenso e significativo. Ecco alcuni metodi per sviluppare la vostra consapevolezza sensoriale. Numero 1. La meditazione sensoriale. La meditazione sensoriale è un'arte che richiede pratica e pazienza. Inizia sedendoti in un luogo tranquillo e chiudendo gli occhi. Concentrati su uno dei tuoi sensi, ad esempio il senso del tatto. Sintonizzati sulle sensazioni fisiche, come il contatto del tuo corpo con la sedia o la sensazione dell'aria sulla pelle. Osserva i dettagli, cerca di vivere l'esperienza sensoriale nel momento presente. Puoi praticare questa meditazione per ogni senso, migliorando la tua consapevolezza sensoriale. Numero 2. Mindfulness in natura. La natura offre un ambiente ideale per sviluppare la consapevolezza sensoriale. Trascorri del tempo all'aperto, in un parco o in una zona naturale. Cammina lentamente, prestando attenzione a ciò che ti circonda. Osserva gli alberi, le foglie, gli uccelli o qualsiasi elemento della natura che incontri. Ascolta i suoni della natura e senti il terreno sotto i piedi. Questa pratica ti aiuterà a connetterti con il mondo naturale attraverso i sensi. Numero 3. Cibo consapevole. Una delle esperienze sensoriali più immediate è quella legata al cibo. Sperimenta il cibo in modo consapevole. Quando mangi, dedica tempo a gustare ogni morso. Osserva il suo aspetto, il suo profumo, la sua consistenza. Assapora ogni sapore e cerca di identificare gli ingredienti e le sfumature di gusto. Questo approccio al cibo ti permetterà di gustare e apprezzare davvero ciò che mangi. Numero 4. Arte sensoriale. La creazione artistica è un'ottima via per sviluppare la consapevolezza sensoriale. Esplora l'arte attraverso la pittura, il disegno, la scultura o altre forme creative. Dedica tempo a osservare e toccare i materiali che utilizzi. Sperimenta con colori, forme e texture. L'arte sensoriale ti consentirà di esprimere le tue emozioni e percezioni attraverso la creatività. Numero 5. Pratica regolare. La chiave per sviluppare una consapevolezza sensoriale adattiva è la pratica regolare. Dedica del tempo ogni giorno o settimana a una o più di queste tecniche. Man mano che pratichi, noterai un miglioramento graduale della tua consapevolezza sensoriale. Ricorda che la consapevolezza richiede tempo e pazienza, quindi sii gentile con te stesso durante il percorso. Sviluppare la consapevolezza sensoriale non solo arricchisce la tua esperienza di vita, ma ti permette di connetterti più profondamente con te stesso e con il mondo che ti circonda. Prova queste tecniche e scoprirai come possono arricchire la tua vita quotidiana. Ora che abbiamo esplorato le tecniche per sviluppare la consapevolezza sensoriale, è il momento di comprendere i numerosi benefici che derivano da questa pratica. Sviluppare una consapevolezza sensoriale profonda può arricchire la tua vita in modi che non ti aspetti. Ecco alcuni dei principali benefici. Riduzione dello stress. La consapevolezza sensoriale ti permette di ancorarti al momento presente e quando sei pienamente immerso nell'esperienza sensoriale riduci l'ansia e lo stress legati a preoccupazioni passate o future. Questo stato di rilassamento può avere un impatto significativo sulla tua salute mentale e fisica. Miglioramento delle relazioni. Essere consapevoli dei dettagli durante le interazioni sociali può migliorare la qualità delle tue relazioni. La consapevolezza sensoriale ti aiuta a prestare attenzione agli altri in modo più significativo, ascoltando attivamente e percependo le emozioni e i bisogni altrui. Maggiore gratitudine. La pratica della consapevolezza sensoriale favorisce la gratitudine. Quando impari a percepire la bellezza e la ricchezza delle esperienze quotidiane attraverso i sensi, sviluppi una maggiore gratitudine per la vita. Questo può portare a una prospettiva più positiva e ad una maggiore soddisfazione. Crescita personale. Lo sviluppo della consapevolezza sensoriale può essere parte di un percorso di crescita personale. Questa pratica ti aiuta a conoscere meglio te stesso, a scoprire ciò che ti appassiona e a definire i tuoi valori. Attraverso la consapevolezza puoi prendere decisioni più consapevoli e vivere in accordo con la tua autenticità. Riduzione della distrazione. Nel mondo moderno siamo spesso sopraffatti da stimoli esterni e dispositivi digitali che ci distraggono. La consapevolezza sensoriale ti insegna a concentrarti su ciò che è essenziale, riducendo la distrazione e migliorando la tua capacità di concentrazione. Maggiore apprezzamento per la bellezza. Sviluppando la consapevolezza sensoriale impari a notare la bellezza nei dettagli. Questo ti consente di scoprire una nuova dimensione di apprezzamento per il mondo che ti circonda, dall'arte all'architettura, alla natura e alle persone. Equilibrio emotivo. La pratica della consapevolezza sensoriale può aiutarti a gestire le tue emozioni in modo più efficace. Quando sei consapevole dei tuoi sentimenti e delle sensazioni fisiche associate, sei in grado di regolare le tue emozioni in modo più equilibrato. In chiusura, la consapevolezza sensoriale adattiva è un dono che possiamo coltivare per vivere una vita più piena e significativa. Esplorando le tecniche e i benefici di questa pratica, ci avviciniamo alla comprensione profonda del nostro mondo e di noi stessi. Vi invitiamo a esplorare queste tecniche e a iniziare il vostro viaggio verso una maggiore consapevolezza sensoriale. La bellezza e la ricchezza del mondo vi aspettano se sarete disposti a prestare attenzione. Grazie per aver condiviso questo viaggio nella consapevolezza sensoriale con noi. Se avete domande, commenti o esperienze da condividere, non esitate a farlo. Iscrivetevi al nostro canale per ulteriori contenuti sulla crescita personale e il benessere. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi oggi. Ci vediamo nel prossimo video.